Nella splendida cornice del Bargello, questa sera alle 21.30, in occasione del Florez Dance Festival, andrà in scena lo spettacolo di David Parson, The Best of Parson Dance. Sin dal suo esordine degli anni Ottanta, il coreografo Parson ha fatto la storia della danza, ipnotizzando chi credeva di trovarsi di fronte soltanto a uno spettacolo di danza. Le sue creazioni invece contengono complicità con la luce e l'aria, a cui i danzatori sembrano affidarsi come una vela alla bocca del vento. La più stupefacente virtù sua e dei suoi danzatori è di far apparire la fatica di questa disciplina come naturale, un sensualissimo piacere. Stasera il Viaggio del Meglio di Parsons regalerà incursione e spettacoli del 2012 come Run My World, del 2001 come Kind of Blue, per toccare grandi coreografie come Nassimento Nuovo dai Ritmi Esotici e di Ibbene del 2009. Grazie a tutti. Cosa ne pensa di questo fantastico luogo e ha tratto ispirazione dal Museo del Bargello? Sono arrivato con la compagnia ieri sera e abbiamo trovato con stupore questo bellissimo luogo e siamo ispirati e non volevamo andare via. Abbiamo fatto la prova fino alle 3 di mattina. Al giorno d'oggi i giovani aspiranti ballerini tentano la strada del reality. Lei che cosa ne pensa? Ho molta esperienza con questi reality show perché ho trovato una danzatrice che è veramente fantastica, che ha ballato con amici, il suo nome è Elena Di Mario e per ora è stata un'esperienza veramente spettacolare con lei. Rimarrà a Firenze per vedere altre meraviglie della nostra città? Conosco Firenze molto bene perché ho lavorato anche nella moda per PT Uomo e anche al Florence Dance Festival dal lontano 1990 e questa volta è la terza volta che il Parsons Dance Company è a Firenze. Perciò conosco bene Firenze e sono sempre stato ispirato alla bellezza e alla magia di Firenze. Grazie a tutti.